E' una grande novità, un teatro, un simil teatro per strada. Io spero che la gente si fermi, che questa installazione faccia diventare tutti un po' curiosi. E quindi una bella cosa, purtroppo le nostre pensiline sono in pessime condizioni, e sappiamo bene i problemi economici del comune, quindi io mi auguro anche che questo sia di buon auspicio che altre aziende locali possano fare la stessa cosa per pubblicizzare i loro prodotti.